Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale di cucina. Per questo carnevale mi va di condividere con voi questa ricetta che faceva la mia povera nonna. Una ricetta semplice e veloce riguarda le frittelle di riso di carnevale. Seguitela con me in cucina e in tutti i passaggi semplici. Per le nostre frittelle di riso occorre 300 g di riso parboiled o arborio o potete usare anche il riso comune, scorza di arancia quanto basta e scorza grattata, 500 ml di latte intero, un bel cucchiaio di miele millefiori, 60 g di zucchero a velo, 10 g di lievito in polvere, 140 g di farina, 60 g di zucchero semolato per la guarnizione, 3 uova intere. Per prima cosa andiamo a mettere in cottura il riso per le nostre frittelle. Adageremo mezzo litro di latte intero e andremo a mettere anche un po' di acqua. A questo punto mettiamo anche la scorza dell'arancio intera che poi andrà tolta successivamente. Mettiamo un abbondante cucchiaio di miele millefiori di montagna o va bene anche di acacia. Non mettete quello di castagno perché in questa ricetta non è molto adatto. Potrebbe lasciarvi un retro gusto un po' amarogliolo. Cercate di sciogliere il miele nel latte. Il latte caldo adesso metto il riso. Lo portiamo a cottura. Io ho scelto il riso parboiled in modo che rimanga un pochino leggermente croccante la nostra frittella. Se utilizzate altri tipi di riso dovete stare attenti alla cottura perché è diversa. Questo cuoce in 15-18 minuti. Quindi io lo fermerò come cottura a 15 minuti anche perché dopo andranno fritte le nostre frittelle in olio caldo. Ecco qua. Ricordatevi mentre cuoce il riso di girarlo sempre e se manca del liquido aggiungetelo fino al termine della cottura. Deve risultare poi asciutto. Io ho scelto questo tipo di riso perché va bene cuocerlo con il liquido. Se poi utilizzate un riso comune o arborio state molto attenti perché passa subito di cottura. Quindi vi cuocerà in 10-8 minuti. Il riso è cotto. Tolgo la scorza, lo adaso in una boule capiente, farina, lievito, le uova e la scorza dell'arancio grattugiato. Lavoro l'impasto energicamente. E' pronto. Mi aiuto con un cucchiaio da minestra e formo le mie frittelle. Come vedete come faceva la mia nonna con il cucchiaio. Utilizzate sempre olio di arachidi e adagiate poco alla volta le nostre frittelle. Appena salgono giratele. Giriamo. E volta che l'olio adesso è il bollore potete anche abbassare un po' adesso. Alternate così l'olio non passa il punto di frigo. Adagio le mie frittelle di riso, le mie pepite, su un vassoino. Il piatto è pronto. Buon carnevale a tutti. Questa era la mia ricetta di oggi e non vi dimenticate, per chi volesse può acquistare anche il mio libro di Cuscina Salutista, il mio primo libro del canale. Ciao a tutti e buon carnevale!